Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Nick Watch e bentornati. Oggi, scuola ho mangiato, dicevo, oggi parleremo di questo. Sì, questo, ovvero, tu dove lo stai vedendo questo video? Dove lo stai vedendo questo video? YouTube? Bene, oggi faremo i 5 motivi per cui YouTube fa schifo, o comunque YouTube, le cose che credo di YouTube. Comunque ci parleremo di questa merda di social, che da lontano 2000 è buono, mi ricordo. Prima era tutto ok, ora è diventato inabitabile. Andiamo. Numero 5. I copyright. Allora, io non sto dicendo quei copyright che magari dico, sai, ho messo una canzone originale, ho messo questo e magari ci può stare. No, io parlo di quei copyright che anche se tu gli aumenti la tonalità della canzone al massimo, la metti all'arrendatore, la metti indietro, la metti veloce, che è talmente modificata da questo file audio che non sembra neanche la canzone, mi dai copyright. Porca troia! In più, se tu sei un cantante o comunque uno che fa canzoni, non le pubblicare su YouTube, perché puntualmente ti dà il copyright. Ma scusa, ma se io ho prodotto la mia canzone e pubblico il video, il clip con tutte le canzoni, perché mi dai il copyright a me stesso? Numero 4. Le visualizzazioni. Attenzione, questo non è contro YouTube, ma è contro la community YouTube, che comunque non è bella. Tu, come nel mio caso, oppure di Mr. Massi, hai fatto un cartone animato, come Pierugo oppure Mega Girls, che lo hai fatto completamente, proprio lo hai fatto nei minimi dettagli, qualsiasi cosa, tutte le musiche è, poi a massimo ha 102 visualizzazioni, mentre una vlogger che non parla di stronzate ne guadagna un quintale di visualizzazioni di like e puntualmente dicevo, io che ho fatto la mia roba, 102 visualizzazioni, ma fai più pubblicità YouTube, che cazzo è? Numero 3. Le segnalazioni false che non controlla mai e ti blocca il video. Sì, sto parlando con te Violetta Rox, sei una stronza di merda proprio. Eh sì, ho detto che sto andando in merda, Violetta Rox è la merda della merda, vale meno delle mosche e ti ammazzerei tutta. Allora, però dobbiamo parlare di YouTube, non di Violetta Rox. Allora ragazzi, probabilmente vi sarebbe capitato vedere i video bloccati o comunque bloccati o qualsiasi cosa, perché magari qualche figlio di puttana avrà detto, segnalo questo video perché mi dà fastidio, anch'io l'ho fatto, chiedo scusa, però puntualmente la maggior parte dei cazzo di casi, come nel caso di Mr. Masi del video della recensione di Barbie e Violetta Rox, dicono, eh, 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 ti blocca il video senza neanche controllare che le segnalazioni sono state fatte in malafede. E meno male che poi YouTube alla fine gli ha ripristinato il video a Mr. Masi. Però mi fai incazzare perché queste cose non dovrebbero accadere. Cioè, se uno ti segnala un video per copyright, quando quel video rispetto a Fair Use, perché lo blocchi lo stesso? Controlla! Che vi costa controllare! Fate schifo! Numero due. Il family friendly. Io vi sto odiando. Io vi sto odiando, ragazzi, io vi sto odiando. No, ragazzi, YouTube, vi sto odiando, YouTube, vi sto odiando. YouTube non è un posto per bambini. Non si può monopolizzare un linguaggio in un cazzo di sociale che nasce per bambini solo perché ci hanno due scemi di genitori di merda che hanno il telefono in mano ai bambini. È come censurare Pornhub mettendo il family friendly. No, perché se è nato per far vedere i porno, come YouTube. No, YouTube non fa vedere i porno, ma comunque, se YouTube prima consentiva video volgari, consenti altri video volgari. Questa non la capivano in tanti, però comunque, però comunque, fa incazzare, perché YouTube non è per bambini. È dulcis in fondo. Numero uno, le pubblicità. Attenzione, non mi sto riferendo alle pubblicità, quella con canali tantissimi che fanno i soldi, eh. Dico pubblicità, perché non so se lo sapete, se siete contento e credo, magari lo potete sapere, che per avere le pubblicità e quindi iniziare a monetizzare, devi avere mille iscritti. Giusto? Ok. Io vedo alcuni video di canali che ne hanno, tanti rispettati miei, ma comunque sono sempre meno di mille iscritti. E hanno la pubblicità. E hanno la pubblicità! Ma perché? Ma a sto punto non falla la pubblicità. E cioè, è pubblicità del social? Ma siete stronzi! Perché, anche se fosse pubblicità del social, finché non risolvono i problemi spiegati nei punti precedenti, io non glieli do soldi a se stronzi. Noi, non glieli do i soldi a YouTube. Mai! Mai darò soldi a questa piattaforma di merda. E in più, e in più, una volta, avevo la pubblicità pure nei miei video! Nei miei video! Io vi posso garantire, non ho la pubblicità attiva, eppure, eppure, me l'ha fatta vedere quella parte, mi ha fatto incazzare! E va bene, da Nickwatch, layers!